3.000 nuovi alberi a Lucca per combattere l'inquinamento. Questo è il progetto dell'Associazione Talea, sposato dall'amministrazione comunale e sostenuto dalle fondazioni Cassa di Risparmio e Banca del Monte. Il piano, presentato alla Casermetta San Regolo, prevede la messa a dimora in sette aree comunali di 3.000 alberi con capacità di assorbimento di inquinanti entro i prossimi tre anni. Pioppi, querce, frassini, aceri e carpini, ma anche ciliegi e tigli. Piantare nuovi alberi non è solo importante per l'ambiente, per contrastare il cambiamento climatico e contrastare le polveri sottili. È anche un gesto che ha una grandissima valenza simbolica. L'albero è da sempre il simbolo della vita. Piantare un albero è un grande gesto di speranza, un gesto di fiducia nel futuro. È un gesto che quindi, in questa fase storica che stiamo vivendo, non è solo importante per l'ambiente, ma è importante per prepararci al meglio al domani che abbiamo davanti. Ma come è nato questo progetto? L'idea è nata per fare un regalo di natura alla comunità. Avevamo pensato a diverse idee, però erano molto fumose. Alla fine abbiamo pensato di spostarci su qualcosa di concreto, piantare un albero è un'idea più concreta che pensiamo si possa mettere a punto. Il progetto ha anche altre finalità. Quello che le persone, i cittadini di Lucca, si avvicinano al tema ambientale e ci aiutino anche collaborando con la nostra associazione, sia in questo progetto e anche nei prossimi che magari metteremo in atto sul comune di Lucca. Grazie. Grazie.